Come sta tua madre? I medici dicono che è passato la notte e questo è un buon segno. E comunque andrà a questo incontro. Io sarò sempre orgogliosa della mia bambina. Ce l'hai questo gene, forza! Ciao, Nicola. Che ci fai qua? Voglio combattere. Non capisco perché non mi faccia combattere. Per me non sei pronta. Vedo che le cose qui non vanno come devono. E lasciaci in pace perché la prossima volta se non ti uccide lui lo faccio io! Ricordati che sei tu la campionessa del mondo. Nica, non ne vale la pena! Non sei stato un padre. Non sei stato un marito. Hai rovinato la vita mia e di mia madre invece di proteggerci. Perché ognuno di quei ragazzi lì potrebbe essere mio figlio. Si muove bene. È forte e determinata, ma qui si tratta del titolo mondiale. Carmine, mica il fuoco dentro. Perf 선생님 che si tratta di libero. Cosa? Sous-titrage ST' 501